Un ordigno improvvisato esploso nella macchina di Sasho Dikov, giornalista bulgaro fortemente critico nei confronti del governo di centrodestra. La deflagrazione è avvenuta in concomitanza con la visita del presidente della commissione Jose Barroso in Bulgaria, poco prima della pubblicazione del rapporto annuale sulla lotta del paese contro la corruzione.